Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video Diciamo che io questo video non lo volevo fare Mi ha costinto lui Come primo video del canale Diciamo che non andava tanto bene Come avete detto dal titolo Sempre se ci sarà un titolo Esploriamo un macello abbandonato No Allora, esploriamo un macello Abbandonato Diciamo che Il portone non è niente di che Perché c'è questa cosa qui, se vedete Diciamo che fa cagare Dobbiamo andare di qua, il portone è passato in macchina Quindi facciamo finta di che Ok, allora Facciamo finta di non fare niente perché sono una persona Ma che di là invece c'è una casa Dove stanno lavorando Quindi sperando che non ci sgammano male Allora, noi qua non ci siamo mai saliti Non sappiamo manco se ce la facciamo Abbiamo soltanto trovato questa porta aperta Dove per scavalcare Vogliamo andare qua perché ci è sembrata La migliore soluzione Oppure qui Però, cioè, guardate quel muretto Cioè, in fronte di parole Qua pieno E volevo andare qua Quindi, vediamo un attimo come risolverla Allora, il nostro Allora, fammi parlare due secondi Abbiamo notato che Se scavalchiamo questa cosa Mi sono infatti quasi ucciso Se scavalchiamo questa cosa La porta si apre Infatti, se è aperta Io mi sono quasi ucciso Quindi, mi dimostra Visto che siamo dei grandissimi geni Abbiamo messo questa pietra Dove ci stiamo spaccando le vostre bambini Esattamente Che non servirà a niente Perché vedrete Questo Signor Mattia Che si spaccherà In due Tutto questo Per scavalcare Vedetevi quanto Rendetevi conto Rendetevi conto Che è Così tanto vicino Rendetevi conto Che sono passate In 25 macchine Se ci vedono Questa Questa La bifiamo Sì Ok Adesso gugliamo Che un grande mossa Scavalcare Questa parte O quella parte Quella Quella Secondo me è facile Perché guarda C'è un muretto Non lo so Non l'abbiamo mai fatto Tieni conto Volevo provarlo prima Ma è impossibile Abbiamo fatto tutto Off camera Perché diciamo Che abbiamo messo Fatto Guarda Credo che si veda niente Attento Vada Sì Metti il piede Su quella là Cioè Su quella cosa là No Calballo un po' Attento Vai Io Visto che Sicuramente Madonna Non ce la farò Diamo il telefono a lui Ciao Prendi pure il mio telefono Ciao Ti hai buttato Tutta la cina Andossa Non ce l'ha fatta Ecco Passo Passo Si Incredibilmente Ce l'ha fatta Mostra qua Allora Vedrete il video Alcune parti del video Anche dalla sua prospettiva È iniziato a filmare pure lui Qua abbiamo scavaccato Qua abbiamo scavaccato Cioè Mi ha scavaccato io qui E qua Ecco 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 Grazie Prego Abbiamo un'idea Di come scavaccare Senza morire di qua Perché Cioè Lui vuole fare questa cosa Oh ci sono dei vetri Allora Mi butto lì Guardate No fermo Praticamente Lui si vuole aggrappare a questo ferro Però non mi fido E vuole arrampicarsi qua Secondo me Oddio Holy shit No Raggiunto spazio Qua posto Che merda Che Mi ha raggiunto lo spazio Ok forse riesco così Senza aggrapparmi al filo Se non metto la mano sui vetri Magari Aspetta Aspetta Ti voglio Qua tagli Ok ci sono Ora scendo qui Oh Ok Sbrigati per favore Registra qui Registra Ci sei? Si Ok Che cazzo è qui? Oh Aspetta Lì è il portone Che avevate visto Prima? Si se non sbaglio L'ho fatto vedere Si Oh Allora Qua c'è una stanza Intanto Dono un'occhiata Fuori Mamma mia Qua A me Mi hanno detto Non è più un macello Cioè un macello abbandonato Si Ma sarebbe del comune Infatti Queste cose sono Dunque di qualche Piazzetta del comune Cartelli del comune Guardate qua Quindi a me sembra Che si è bruciato qualcosa Cioè guardate l'albero Il colore dell'albero Guardate la finestra Mi sembra Che magari Allora vediamo Oh Allora qua c'è una stanza Che Eh Una stanza Non so Prima qua Prima qua o Prima qua qua Quella è la più inquietante Secondo me Eh appunto la lasciamo Per uscire Aspetta 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 Sembra che c'è uno sportello Cosa Uno sportello di una macchina Tembo Ah cazzo Mamma mia Guarda Vedi che ho tutti distrutti Ragazzi Wow Vediamo che cosa Andiamo Aspetta Qui Aspetta Aspetta La merda Tutta seccata Al sole Mamma mia Ma quante cose Devo biccare Mamma mia Ehi fa paura Il flash non Non posso attivare Il flash Non si vede Una merda Non si vede bene Dal video Però Dove sei di fuori Allora c'è Porca puttana Quante ragno Dele E' bello Allora Ragni Scarafaggi Insetti Non identificati C'è un ragno Odosso Ok no Non era un ragno Ma volava Era qualche setto C'è Tu non fai niente C'è un ragno Tu non fai niente Piccola Piccola angolazione Comunque Del telefono mio Oltre al telefono No no Non ce la faccio Io mi sto cagando sotto No 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 Sì S'è stato Mamma Senti Cammino per favore Vedi se c'ho qualche ragno No no Mi ci penso che c'ho qualche serpente Eh vedi Vedi controllo La mia schiena Vediamo Ok si Guarda Cosa No vabbè Cosa ho addosso Gigante Cosa No niente Sto strassando No 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 Prima questa Perché quella è la più inquietante Se non mi fanno andare da solo Ah ma non c'è niente Vediamo Solo Spazzatura Una tessiera Scusa Non è Ah qua è stata sbarrata Allora guarda Eh ho visto Sì non c'è niente merda avvicinati vai 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 per prima guarda sangue no questo è sempre bomboletta bomboletta se era sangue sarebbe sceso così ma non è che c'è un barbone qua ci sono tutti i materassi sono perso qua no ok non c'è niente guarda che è figata ma che cazzo dici che è figata oh merda oh sembra sangue guarda guarda su fuoco l'olla rega no no sono sicuri che è bellice ah sicuri 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 si si porco oh che cazzo lasciamo 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 vabbè non lo portassimo mamma oddio raga che cazzo è stato non lo so ci lasciamo scappare questo di qua siamo scappati si oddio eh lì c'è un'altra porta oddio che figo però fuori ci sta andiamo a vedere qua andiamo a vedere qua e che cazzo è stato con il mio carino non lo so magari preferirei non saperlo guarda ma stia attento ma vestiti la fede la da qua ci rimano e questo è la cosa e non immagini ma oh ti sento dietro che ho paura e tu stai dietro la ma da qui e questa porta che cazzo è non è che è collegata a quella di prima mi sa di si quella che a prima aspetta forse si però è un'altra stanza tipo andiamo guarda guarda si raga si guarda questo lo dico non sembra cioè guarda sembra che ci ha dormito qualcuno sembra guarda che qualcuno si sia riparato non è che sembra forse è così guarda che cazzo si metterebbe quasi da qui scusa ma quella porta no l'hai sentito? credo che sia stato un uccello o il vento no no c'è un uccello scusa la porta di là che abbiamo visto porta un'altra stanza proprio da no guarda eccola non è questa ah si è questa mamma mia c'è questo c'è questo c'è il piano di puntini il piano di punta vieni qua porco dio si allora oh un serpente no frate ho visto proprio che strisciava andiamo ad assicurarci che era quello raga raga 35 like arrivano a 35 like sento il primo video banale comunque arrivano a 35 like e nel prossimo video ve lo prometterò andiamo qua ma non solo in due tra parentesi andiamo qua a visitare il macello di sera raffanculo alle 9 alle 9 e mezza di sera cioè si sembra presto ma fidatevi alle 9 e mezza qua molto buio e diciamo che se mostri non c'è un singolo palo venire di sera qui diciamo che ehm i palli ci sono si ma non c'è la luce quindi venire di sera venire di sera venire di sera diciamo che non è un po' banale questi parti sono molto cringe noi le taglieremo perchè perchè questo video sarà molto cringe oltre allora ragazzi da mattia e william è tutto iscrivetevi lasciate like e ci vediamo noi ad un prossimo video attivate la campanella ciao